E' stata bloccata dai carabinieri ieri pomeriggio, prima dell'avvio dell'anno scolastico, una giovane insegnante di una scuola dell'infanzia del Vallo di Lauro, ritenuta gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori. L'indagine trae origine alle denunce esporte da alcune madri di bambini che frequentavano quella scuola che hanno raccontato di gravi episodi di presunti maltrattamenti subiti dai propri figli da parte dell'insegnante, tanto da incutere negli stessi la paura di recarsi a scuola. Dalle indagini dei carabinieri è emerso il comportamento minaccioso ed aggressivo dell'insegnante alla quale erano stati affidati i bambini. La donna, sulla quarantina, poneva in essere angherie, vessazioni fisiche e psicologiche per quotento i bambini, denigrandoli e rimproverandoli severamente e in maniera sproporzionata. Sulla scorta di questi indizi è stata avviata un'attività di intercettazione audio-video dalla quale sono emersi i maltrattamenti patiti dai bambini. In particolare è emerso che l'indagata, in maniera reiterata alla luce dei maltrattamenti, aveva determinato un clima generale di sopraffazione e timore all'interno della classe con continue mortificazioni psicologiche e fisiche, compromettendo una sana crescita dei bambini a causa del disagio psicologico generato da tali condotte. Probabile che nell'ambito delle indagini, oltre ai video, siano stati ascoltati anche i colleghi. L'insegnante è stata quindi sottoposta alla misura interdittiva in parola con il vieto di prestare la propria attività lavorativa presso quell'istituto scolastico, ovvero in qualsiasi altra istituzione scolastica di ogni ordine e grado per il periodo di dieci mesi.